Che cosa? Che cos'è quello? Io... Io sono un monumento ai nostri peccati. Calma. Non irritiamo questa cosa, Daemon. Questo è di nervi in metallo e di mente occluso. Questo è di carne e fede ed è il più illuso. Uccidimi o liberami, parassita. Ma non farmi perdere tempo in chiacchiere. C'è molto da dire. E io ho ascoltato attraverso la roccia il metallo e il penno. Ora parlerò e sarete voi ad ascoltare. Salve. Io sono 2401 Penitentangent, guardiano dell'installazione 05. Io sono il profeta del rimorso, consigliere di massimo grado, gerarca dei Covenant. Un attivatore? Qui? Finalmente! Abbiamo molto da fare. Dobbiamo attivare questa struttura se vogliamo contenere il contagio. Resta dove sei. Nessuno può fare nulla prima che abbia finito il sermone. Ciò non è esatto. L'installazione ha un ruolo di utilizzazione di 1,2 trilioni di simulazioni e un impiego reale. È pronta ad attivarsi quando richiesto. Di tutti gli oggetti lasciati dai nostri signori. I più inutili sono questi stupidi oracoli. Non sanno nulla del grande viaggio. E tu non sai nulla del contenimento. Hai dimostrato un totale disinteresse anche per i protocolli di base. Il contenimento di costoi. E il suo grande viaggio sono la stessa cosa. I tuoi profeti ti hanno promesso la libertà da un'esistenza dannata. Ma non troverai alcuna salvezza su questo anello. Chi ha creato questo luogo sapiva ciò che faceva. Non fraintendermi l'intento. Properiremo allo stesso modo. Questo è vero. Halo è un'arma. I tuoi profeti stanno commettendo un grave errore. La tua ignoranza ha già distrutto un anello sacro, Daemon. Non ti permetterò di danneggiarne un altro. Se non vorrai ascoltare la verità, allora ve la mostrerò. C'è ancora tempo per impedire che la chiave sia attivata. Ma prima dobbiamo trovarla. Tu cercherai un luogo dove potrebbe essere. E tu in un altro. Il fatto ci ha fatto incontrare come nemici. A questo anello ci renderà fratelli. Un lato. Un lato. Un lato. Un lato. Siamo tutti profondamente preoccupati La liberazione del parassita è stata inattesa e sventurata Ma non c'è da farsi prendere dal panico In verità, questo è il momento di gioire Un momento glorioso per tutti i Covenant Perché l'icona sacra è stata finalmente ritrovata Grazie a essa il nostro sentiero è chiaro Il nostro accesso al divino garantito Il grande viaggio è vicino E nulla potrà fermarci, nemmeno il flut Uccidiamo il demon Prima togli di mezzo quei brutti meglio Non hanno un generatore di scudo Ma distruggiamolo Perde il controllo Altro nemico Il demon si è infiltrato nella camera del concilio Proteggiamo i gerarchi Blocchiamo le uscite Non credo proprio Grazie a tutti Grazie a tutti Mettimi su un piedistallo vicino alla porta Mettimi su un piedistallo vicino alla porta Mettimi su un piedistallo vicino alla porta Riuscirà strappargliela Raggiungo quelle porte Vai Sarà più facile tracciare l'icona Se io sarò collegata alla rena La nato demon Attenzione Stai seguendo! Stai seguendo! No! Capitano! 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 Prepariamoci! Verità, si sposta nei livelli inferiori della torre. Invertirò l'ascensore gravitazionale. Vai giù, taglialo fuori. È sicuro, credimi. Salta su! Sì, guardate! 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 Rimpanzarai i presidi e che dovete rinaccessare le cibi. Assacriammo il terreno alla pista. Sì, guardate! Stanno mettendo le costruzioni sui costruzioni. Sì, guardate! Oh no! Grazie a tutti! I segnali hanno origini da un punto sotto di noi. Troviamo tutto il migliore. Mi hanno preso. Ecco cazzo, salta su. Su queste celle sono presenti due gruppi di marini. Braccerò la loro posizione. Tu torni di mezzo alle guardie. Silenzio. Ecco qua. Molto gattivo questo! Oh? L'embedo! Godardo! A livello centrale capo, livello di scuola dentro, attento alle guardie! Está escapando! Ascoltate, Marine. Il capo è a caccia di un profeta e voi lo aiuterete a farlo secco. Affermativo! Manca ancora un gruppo di Marine. Capo, viene al livello inferiore. Altro guardie, prepara. Capo, viene al livello inferiore. Altro guardie, prepara. Fin arribo! Capo! 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 Fin arrivo, keluargo! Wow! Grazie. Marina a posto. Bel lavoro. Grazie, amico. Rinforzzi nemici, scendono con l'ascensore. Altri cattivi! Rinforzzi nemici, scendono con l'ascensore. Rinforzzi nemici, scendono con l'ascensore. E' rinforzo nemici, scendono con l'ascensore. E' rinforzo! Non lo vedo. L'ascensore è sicuro, dentro. Non abbiate paura, fratelli, di cura sacria al sicuro. Sono stati tardi, per uscire, a strapparle. Per questo avranno la nostra gravità. Quello è sistemato. Non abbiate paura, fratelli, di cura sacria al sicuro. Non abbiate paura, fratelli, di cura sacria al sicuro. Non abbiate paura, fratelli, di cura sacria al sicuro. Ah, capo! Penso che stessi cercando di arrendersi. Gli elite non sono più in grado di garantire la sicurezza dei profeti che hanno bisogno di uscire le nostre vite. E nessuno diventi piccolo del mondo. Con una fede. Saremo sicuri fino al sentiero. Ho un blocco superiore all'interno di questa porta. Stupida caraglia! Forza ragazzi, è tempo di guadagnare una paga! Con la mia benedizione, ora sono i bruni a guidare la porta. Chiedo alla vostra alleanza e voi la concederemo. Non credo in nulla, non credo in nulla. Non credo in nulla. Non credo in nulla. Mi hai introdurato! Ehi amico, un aiutino? Forza bello, sono solo un umano. Ecco quello che definisco un bel pestaggio. Ehi amico, un aiutino? 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 Orribile pendezzo! 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 Sì, non è vero. Oh Oh, fai, 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 fai Stop! Siamo arrivati. 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 Uno in ogni phantom. Le speranze dei Covenant gravano sulle tue spalle, capitano. La mia fede è salda. Non fallerò. No, lascialo. No, lascia. Siamo arrivati. Siamo arrivati.